Cuore e obesità, prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari nel paziente obeso. E' questo il tema delle giornate cardiologiche presentate oggi, giovedì 12 ottobre, nella Sala Congressi di Palazzo Cesi a Roma. Si tratta di una vera emergenza che non può più essere riconosciuta soltanto come una patologia estetica. L'appuntamento scientifico è stato organizzato e promosso ancora una volta dalla Fondazione Izeni e Nervi. La riflessione scientifica avviata in conferenza dei relatori verrà approfondita durante i lavori congressuali. E' un'epidemia, i numeri anche in Italia sono estremamente alti, ma tutti i fattori sono prevenibili e prevedibili e modificabili. Questo deve essere il messaggio forte. E' un'altra faccia della malnutrizione che bisogna affrontare fin da piccoli. Un miliardo di persone sono obese nel mondo, vuol dire uno su otto. E nel 2035 questo numero è destinato a raddoppiare, cioè due miliardi di obesi. Ma se veniamo all'Italia, sei milioni di persone sono obese e quindi significa uno su dieci persone. Altra cosa incredibile è l'aumento dell'obesità nell'adolescenza. Circa il 30% degli adolescenti in Italia è obeso. Sono numeri impressionanti. È la seconda causa di morte al mondo e la medicina si interroga sulle soluzioni che ci sono. Sulla chirurgia bariatrica in Italia ci sono i migliori professionisti con livelli di eccellenza. Soltanto così si può intervenire per migliorare il sistema cardiovascolare del paziente, perché l'obesità non è più soltanto un problema estetico. Fondamentale è l'importanza della cultura della cura, perché è evidente la correlazione tra obesità e patologie cardiovascolari. Abbiamo le soluzioni. La più semplice di tutti è quella di promuovere l'attività sportiva. Adesso avete visto che anche in Costituzione è stato inserito lo sport come un elemento che aiuta per il benessere, è fondamentale per il benessere psicofisico delle persone. E poi abbiamo anche tutta una serie di presidi farmacologici e nonne e anche chirurgici per poter eliminare questo fattore di rischio. In India, che nella nostra percezione è un paese povero, oltre il 40% è obeso e nel 2035 una persona su quattro a livello mondiale avrà problemi di obesità. Dopo il Covid per il mondo scientifico è ormai lampante la necessità di mettere in campo concrete azioni di prevenzioni prima ancora che di cura, un tema su cui anche la politica si interroga. Ancora una volta alla quindicesima elezione la Fondazione Izeni rappresenta un tema di grande attualità in cui è fondamentale riconoscersi in azioni reali più che in quelle fantasiose di metodi straordinari quando possiamo farli con le nostre doti e con le nostre capacità e con il nostro impegno. La presentazione odierna del convegno internazionale che si tiene qui a Roma è particolarmente importante ed è apprezzabile. Sono le giornate della cardiologia, tutti siamo impegnati e dobbiamo sentirci impegnati nella prevenzione. La Fondazione Izeni fa questa attività in maniera lodevole da anni e siamo sicuramente tutti più assistiti e tutti più contenti nel momento in cui siamo anche tranquilli rispetto alla prevenzione. Ecco su questo dico veramente avanti, ciascuno faccia la propria parte e miglioriamo la salute di tutti.